E double buongiorno a tutti, eccoci qua con il nostro video preliminare delle prime 24 ore di Season. Format piuttosto recente che abbiamo introdotto sul canale nel quale analizziamo sia dal punto di vista mio personale che dal punto di vista dei dati oggettivi riferiti al gioco, l'andamento e magari qualche anche prospettiva futura ovviamente di questa stagione che andiamo ad analizzare. La stagione 4 capitolo 5 denominata Destino Ineluttabile, no in realtà Absolute Doom o Destino come era tipo incrociato se in italiano c'è una traduzione tutta sua, ovvero detta in parole spicciole la stagione con l'Hub Marvel il grande ritorno dopo 4 anni di un incubo forse che ho vissuto all'epoca e che in realtà come spauracchio mi aveva anche creato delle premesse non felicissime per questa di stagione di cui ora vi voglio parlare assolutamente come introduzione. Però prima faccio un paio di callout ovviamente richiamandovi al codice creatore, all'iscrivervi al canale che è sempre molto importante con la campanellina attiva raga per non perdervi le notifiche, a lasciare like ovviamente, fatelo. Abbiamo già aggiornato la mappa con tutti i nuovi attrezzi disponibili, ovviamente non ci sono i poteri della Marvel perché sono copyrightati e quindi se volete farmare si può iniziare a calibrare la mappa, farò anche degli shorts dedicati per aumentare un pochino l'afflusso di giocatori ed è ideale anche per farmare la skin segreta, quindi mi raccomando fateci un salto anche per provare la roba nuova. Partiamo? Direi che partiamo. Ah no, prima vi ricordo che stasera siamo in live per giocare insieme a voi alla stagione. Ore 21, canale viola, non mancate. Partiamo da una premessa, io lo dico chiaramente, ora posso scoprire le carte perché la mia decisione l'ho già presa, avevo già deciso una cosa del genere. Se si fosse verificato una season Marvel come quella di 4 anni fa, lo dissi a pochi conoscenti, insomma, ma che seguono il canale, e ve lo potranno confermare, io dissi, io mollerò Fortnite per quelle settimane slash mesi. Dopo 24 ore, ma già lo sapevo perché il pass dava un'intuizione di questo, ovviamente vi dico che no, state tranquilli, non molliamo. E ovviamente cercherò di spiegarvi perché da tutti i punti di vista, lore, mappa, pass, gameplay, e soprattutto dopo faremo anche un'analisi dei numeri per capire se questa stagione sta risollevando o affossando Fortnite. Direi che possiamo cominciare da qualche riflessione preliminare. Un aspetto molto importante che secondo me non va sottovalutato è il fatto che siamo molto più preparati, abbiamo una sorta di anticorpo, potremmo dire, all'interno della nostra mente, che ci fa sopportare molto meglio le collaborazioni. Essere passati nel corso del tempo a tante tante collab invasive che hanno anche caratterizzato momenti di stagioni o comunque vedere le modalità alternative del metaverso, eccetera, eccetera, non ci fanno più di tanto, secondo me, storcere il naso quanto l'avrebbe fatto in passato una collaborazione completa con la Marvel come avvenne quattro anni fa. Questo significa che quindi mi va bene il dosaggio che hanno scelto? Assolutamente no, io lo ritengo eccessivo per quelli che sono i miei gusti, anche perché, sapete, sono un intransigente tricollab, a me non piacciono. Ciò non di meno, devo anche notare il fatto che non solo, ripeto, siamo abituati alle collab, ma è anche vero che questa collaborazione è molto più morbida, molto più sensata e molto più lineare nella trama di Fortnite, ma anche nel suo sviluppo di mappa, gameplay, eccetera, eccetera. E qua io già farei un 1 a 0 tra Charlie Wen e Donald Mustard, perché io me lo ricordo perfettamente qual era il mood della stagione 4 capitolo 2, una roba che da un giorno all'altro arrivano gli eroi della Marvel e tutto il resto diventa una coltre di fumo, diventano importanti solo gli eroi all'interno del pass battaglia, gli eroi si occupano di risolvere il problema, di andare a risolvere le cose anche nell'evento, comandarlo, fare tutto, tolta ovviamente la vendetta di Mida che è comunque stato un evento a parte di Halloween, e non mi era piaciuto proprio, insomma. A questo giro invece la mossa è stata più intelligente, perché nonostante sia manifestato un nemico potente della Marvel che ha anche un po' sottratto l'originalità della lore, e tra poco ne parleremo perché è molto seria questa cosa, tra parte la linea di resistenza che era cominciata con l'underground nella stagione 1 continua a permanere, noi sappiamo ad esempio che all'interno delle missioni storie avremo ancora con i nostri dialoghi Oracolo, Hope e Jones, questo per sottolineare quanto comunque l'anima di Fortnite rimanga nonostante ci sia una collab molto invasiva. Di fatto dovreste pensare come se fosse la vecchia stagione in cui però anziché palesarsi un cattivo come Megalodon, che è originale e che quindi apprezzo di più, un cattivo iconico della Marvel che ha tutto un suo background da scoprire. E proprio su questo punto ringrazio ovviamente tutti i ragazzi che hanno seguito il watching che abbiamo fatto nei giorni scorsi sul sito Viola, perché ci siamo fatti una piccola mangiata di tantissima roba Marvel che un pochino mi ha aiutato a comprendere meglio e digerire e rendermi anche meno insofferente, devo dirvi la verità, su tutto quello che è arrivato ad esempio sull'isola. Sapere la trama dei fumetti Secret Wars, sapere chi è Dottor Doom, sapere chi è ad esempio Emma Frost, eccetera eccetera, anche se a grandi linee non avendo letto il materiale originale, ma comunque tramite riassunti e spiegazioni visive, è stata quell'infarinatura necessaria a rendermi il tutto più interessante. Mai tanto quanto scoprire dei personaggi nuovi e inediti creati dalla mente degli autori, questo è ovvio, ma comunque meno di non mi frega di stitizi e quindi schippo. Parliamo della mappa, vi va? Allora ho trovato l'evoluzione della mappa abbastanza coerente con quanto fatto in passato. Questa stagione è stata schematica, nel senso che ha seguito proprio l'ordine e il dettame generale del capitolo 5, che ha riguardato un'evoluzione progressiva dalla mappa, prima ai lati, poi successivamente a sud con la tempesta di sabbia, e ora cosa mancava? Ovviamente il nord, che ora è stato doomizzato, oltre a Raft che è un'aggiunta carina ovviamente. Se da una parte non mi entusiasma troppo che tre POI su quattro nuovi siano già tutti e tre caratterizzati dallo stesso tema più o meno, ovvero rappresentare la terra natale di Doom con la città e il castello in particolare, dall'altra parte non si può non notare quanta cura ci sia stata e questo lo fa notare soprattutto se andiamo a guardare quanta differenza ci sta. Uno sicuramente con la stagione vecchia che essendo palesemente stata una stagione a risparmio prediligeva molto spazio vuoto e in generale poche vere attrazioni di interesse, nonostante avesse curato poi tutto l'intorno della mappa per adattarla ai veicoli. Qui si torna invece su una scelta più convenzionale, più simile a quella adottata con la stagione 2 degli dèi, per cui cambia effettivamente solo la zona interessata senza andare a stravolgere il resto della mappa. Ciò nonostante quindi, rilevata la monotematicità che un pochino stressa, perché ripeto è un po' oppressiva, ma ci può anche stare considerando il cattivo di cui dobbiamo parlare, non c'è dubbio che siamo davanti a forse una delle, se non la più, curata delle ambientazioni che abbiamo mai visto su Fortnite. Mi riferisco in particolare al castello del Doctor Doom, che è ovviamente abissalmente lontano da quello originale, vecchissimo e brutto a Parco Pacifico, ma cercate anche di ragionare magari quanto impallidisce il castello della temporale rispetto a quello che hanno fatto per Doctor Doom. E ok che quella era una epic senza più un direttore creativo di Polso, perché non c'era Mustard e non era ancora arrivato Wen, quindi ok, quel castello non era niente di che, ma da una parte però doveva anche essere il castello del personaggio più importante di Fortnite ed era in quel modo lì. Guardate invece quanto è dettagliato, pieno di segreti, ma anche proprio come si avviluppa la mappa stessa in una maniera molto molto interessante, risultando cent'anni avanti sicuramente rispetto alla vecchia versione, ma anche moltissimi passi avanti rispetto a tante ambientazioni che abbiamo avuto in passato su Fortnite. Brutto pensare che quando girano i soldi le cose si fanno molto meglio che quando ce ne stanno di meno è la verità dei fatti e io la volevo sottolineare, è un peccato. Questione pass, non mi sostituisco alla reaction che ci ho fatto, ma ovviamente ho due pensieri in più. Uno, sono contento dell'assenza del monopolio totale della Marvel, è carino che abbiano deciso di integrare sia Bananita che jonesi, per dare un tocco comunque, un ricordo del fatto che comunque siamo su Fortnite. E se è vero che gli altri membri del pass Marvel non saranno certamente di grido quanto i primi eroi originali del pass, quello vecchio, diciamo che comunque questa volta si integrano molto meglio, niente cagate, lasciatemi passare questo termine, come il martello che non lo può reggere nessuno, determinate con trail che non andavano con alcuni personaggi, insomma un arsenale limitatissimo perché è roba Marvel e più importante. Quello faceva molto molto incazzare, qui invece tutti possono usare tutto, da quello che ho capito, ed è una cosa molto più armoniosa e gioiosa. Passiamo al gameplay perché c'è parecchio da dire. Chiariamo immediatamente un punto, questa stagione non mi sorprende. Con questo voglio dire che a prescindere che vi sia piaciuta o no la stagione dei veicoli precedenti, è chiaro che quella era stata un azzardo con una potenziale evoluzione del gameplay, cosa che qui ovviamente viene ritirata assolutamente in favore del fatto che sì, ci sono ora i poteri dei supereroi ma non è nulla di nuovo a quello che abbiamo già visto moltissime volte su Fortnite. Questi poteri però distruggono il bilanciamento, è presto per dirlo e non sono la persona più qualificata visto che gioco in no build e ho giocato praticamente due ore poco poco. Posso dire che sì, mi sembrano abbastanza bilanciati, mi sembra molto forte quindi forse troppo il potere di war machine della mitraglietta che se scombato con tutto il set praticamente ti fa diventare un tank da guerra. Ci butterò un occhio nei prossimi giorni per capire se effettivamente siamo ad un eccesso. E soprattutto ricordatevi che effettivamente non li abbiamo ancora visti tutti, tanti poteri come la tetta laser di Iron Man o la Kamehameha di Doom o gli artigli di Shuri o erano di Wolverine, non lo so, comunque quelle cose devono ancora arrivare quindi tutto il bilanciamento potrebbe tranquillamente andare a farsi friggere. Fatto sta che gioco questa stagione però e non sento nessun sapore di nuovo, di fresco, è una classica stagione di Fortnite, nel bene e nel male ovviamente. L'arsenale nuovo, parlo di armi specifiche, è molto molto carino, le Akimbo di Deadpool, oops, Gwenpool, sono molto molto carine, fantastica la pistola e anche il pompa perché hanno quel feeling un po' far west nelle armi che mi piace tantissimo, non so come gli sia venuto in mente ma è bello, tenetele, vi prego. Plauso come sempre ai boss che tentano di rinnovarsi, non particolari idee fighe, tranne Emma Frost che è molto bello che abbiano rispettato il canone dei fumetti per cui lei è il potere della cristallizzazione ma c'è un punto da cui questa si genera che è il suo punto debole, un po' una sorta di tallone da kill applicato a questa supereroina, vedete che ve l'ho studiata da un pochetto di Marvel, si vede. E quindi è interessante avere questa sorta di boss col weak spot, misterio si moltiplica, già Sloan lo faceva in passato quindi non urla al miracolo e il bot di Doom invece è semplicemente un terreno di colpi che fa tanto tanto male ma hanno tutti delle mosse molto specifiche e carine, c'è sempre tanta cura nei boss e questa cosa mi piace. Allo stesso modo i medaglioni come sempre si confermano per quello che devono essere ovvero dei poteri abbastanza sgravi a sto giro, cosa che mi piace perché comunque vieni contrassegnati in mappa, che danno veramente un senso al prendere quel potenziamento con il risk and reward di essere colpiti. Per me funzionano da matti e li trovo il pick del capitolo. Altro che le perk schifose del capitolo 4, cioè io spero che ve le siate dimenticate perché erano inutili. Questione lore, non parleremo dei contenuti, ciò renderebbe inutile il prossimo video che uscirà domani, giusto? Oh, cacciato uno spoiler importante, let's go! Ma bisogna dire che c'è sempre la solita cura, non solo perché noi sappiamo che Charlie Wen conosce la materia, ma soprattutto Charlie Wen sa fare un po' di warbuilding come si deve. Su un personaggio vecchio è stato lasciato andare, persino Nisha ancora ha dei legami con la storia della società che continua e viene approfondito ulteriormente, la stessa cosa vale per il Pantheon. Mi è sembrato, e forse ho mancato qualcosa, ditemelo voi, ci sono un po' pochi riferimenti a Megalodon, la macchinista eccetera. L'ho trovata una piccola sottigliezza e piccolo errore perché solitamente ci tenevano a fare questi collegamenti tra le season, non che sia importante anche perché era palesemente un cattivo di transizione, però ci stava magari valorizzarlo anche visto che sono stati tenuti i suoi punti di interesse. Una parolina ce l'avrei spesa, però va bene lo stesso. La trama prosegue bene, sarà diretta di nuovo dai nostri protagonisti che comunque hanno un conto in sospeso rispetto a quello che abbiamo lasciato l'ultima volta, quindi stiamo giocando una sorta di parte 2 con un nemico ancora più incazzato, cosa che sicuramente non è molto originale perché le season si stanno un po' ripetendo a livello di concetto, dall'altra parte vi dico è un po' difficile organizzare una trama differente, ragazzi, provateci in un battle royale a fare una cosa diversa da quella che fanno che già mi sembra tanta roba. E niente, quindi ripeto, nonostante siamo davanti a un cattivo Marvel che ha la sua grande porzione di lore e comunque di scagnozzi e tanti riferimenti a un mondo che è già precostruito, rimane comunque un cuore di Fortnite che dovrà occuparsi della faccenda e spero tra tre mesi debellarla completamente e farci tornare in un mondo più felice. E soprattutto ci saranno molte più missioni, ora non so se le hanno porzionate meglio per cui in realtà saranno mini missioni ogni settimana, ma pare che ci sia stato un grande investimento da questo punto di vista, quindi mi aspetto tanto, non ho ancora sentito nessun audio ma sono carico a pallettoni. Ma cosa ne pensa il pubblico in generale di Fortnite? Nonostante ci sia stato un grandissimo hype per questo tipo di evento ed è chiaro che Fortnite ha riottenuto parte dell'attenzione, non pensiate che questa stagione ha risolto i guai dell'azienda. E fidatevi, sono rimasto stupito anch'io perché con un evento che comunque era andato abbastanza bene pur essendo un mini evento e tanto, tanto marketing che si era fatto in sti giorni, pensavo che avrebbero avuto numeri più felici. Questi sono i dati di picco delle ultime 24 ore di Fortnite, quindi come vedete abbiamo un bel rilancio rispetto alla vecchia stagione, ma siamo molto lontani ad esempio dalla stagione Miti e Mortali che aveva avuto 5 milioni di player, quindi siamo veramente nell'abisso di differenza. Quindi sebbene confido che in questo weekend arriveremo sicuramente ai 3 milioni che comunque sono un buon margine rispetto ai 2 e 4 della volta scorsa, della lontani da una fase di recupero. Ed è assolutamente particolare perché tutti o comunque molti pensavano che grazie alla botta di pubblicità della Marvel le cose sarebbero andate molto bene. Però secondo me dobbiamo non dimenticare un paio di punti. Uno, la Marvel non è assolutamente nello stato di grazia in cui era nel 2020, in cui avrebbe iniziato la sua discesa. Siamo in effetti a 4 anni dove solo determinati film hanno avuto un discreto successo, ma in generale il progetto MCU è in una fase di calo e forti disinteresse. Vediamo se ora la storia di Downey Jr. con il ritorno eccetera alzerà le cose. Però non è più quell'impatto che si aveva nel momento d'oro, diciamo così, Endgame Infinity War che effettivamente aveva portato anche tanta curiosità all'interno del gioco. E questo ovviamente da una parte mi fa dispiacere perché chi mai sarebbe contento di un gioco che non riesce a riprendersi? Ovviamente non posso godere perché Fortnite va male, non sono idiota. Da quell'altra parte spero che sia un'occasione di far capire che, magari ora non è un dato indicativo, anche per l'evento originale di Fortnite e di Megalodon ci sono stati più player. Certo erano concentrati in un unico orario quindi è ovvio che ci siano dei picchi, sì, ma dall'altra parte comunque questi numeri possono dimostrare e spero che dimostreranno ancora una volta quanto è importante che Fortnite mantenga una propria anima perché quella ai giocatori interessa. Infatti non vedo l'ora che esca OG2 per confermare questa cosa, che nonostante è chiaro non avrà mai e poi mai i numeri di OG1, spero che comunque scavalchi questa stagione come interesse e in questo modo configurerebbe un anno che sarà emblematico perché ha rappresentato la risalita con OG1 e successivamente la discesa perenne tanto più il metaverso si è fatto avanti, brevissima risalita con Marvel ma vera botta con OG2. Questi numeri al di là delle dichiarazioni di Team Sweeney spero che poi faranno tanto ragionare i dipendenti interni anche e soprattutto su come gestire le future collab con la Disney perché sapete quello che succederà, ve ne ho parlato in un video precedente. Dunque questo era il mio pensiero su questa stagione, una stagione che mi lascia abbastanza indifferente ma non deluso, questa è una cosa molto importante, di cui ovviamente sono curioso per lo sviluppo dei personaggi che conosciamo, Hope Jones è ovviamente l'oracolo, meno di quelli di cui mi interessa meno cioè quelli Marvel e la speranza che magari durante queste settimane al di là della tanta tanta pubblicità che ci sarà verso i personaggi iconici della serie Marvel, spero anche che avremo modo di iniziare ad intuire i primi passettini che ci porteranno verso OG2, quindi magari un ritorno di mida o comunque indizi che ci andranno un pochino a spiegare cosa succederà dopo di questo. In ogni caso vi rimando al video storia di domani, se non crolla il mondo, se non ci metto troppo a farlo perché è complicato. Ringrazio tutti per le dritte che mi avete dato in questi giorni e anche soprattutto magari per darmi qualche consiglio su come capire determinate cose della Marvel, siete stati tutti preziosissimi, spero di non deludervi col video di domani, vi voglio un sacco bene e noi ci vediamo alla prossima. Buona season Marvel a tutti, è il momento dei vostri commenti, fatemi sapere quanto state apprezzando questa stagione e soprattutto domanda prima di lasciarvi, state percependo la differenza rispetto a quella del 2020? Se l'avete giocato ovviamente? Fatemelo sapere, io l'ho notata. Charlie vuoi il mio padre.